L'amore è come il basilico, se lo trascuri morirà, se te ne prendi cura morirà uguale perché non si capisce quant'acqua vuole il basilico, non si sa Mi hai sposato soltanto perché mio nonno mi ha lasciato 10 milioni di euro, a dire la verità Ma non dire fesserie, a me non mi interessa che te le ho lasciate Ehi, ciao Ciao Ma per caso tuo padre è pasticcere? Perché sono un pasticcino? No, mi serviva una torta di compleanno Pronto, scusi, parlo con mi illuminava luce e gas Senta, mi è arrivata una bollettona da 1.357 euro All'inizio mi sembrava il mio stipendio, poi ho detto così tanto, non può essere mai Ma devo pagare per forza in contanti? No, carte di credito non ne ho Posso donare gli organi però Si può? Ah, ci stanno pensando? Allora chiamo il mio chirurgo intanto Grazie, grazie mille La donna quando sta in silenzio allora ti devi mettere paura perché non è che sta pensando Sta progettando Grazie mille Grazie mille Grazie mille